non pensate male è un fabbro e sta usando il martello dunque sono qui ad anorlondo davanti praticamente al portone come vedete l'ho già aperto già percorso tutto ma voglio farvi vedere il percorso dopo che ho battuto cipe chop oltre la nebbia e ora mi ricordo che quando praticamente la guardiana è stata uccisa ricordo di aver ricevuto il globo dell'occhio nero e ad una certa mi è saltato fuori che questo globo stava sta vibrando io so dove si va andiamo da ben arrivo ben eccolo qua ma sono tre non mi ricordavo più mi ricordavo che c'era da andare da ben ma ah non posso usare le fiasche mamma mia non lo sapevo non li mira li mira li mira li mira e andiamo andiamo contro gandalf citazione orca però io devo andare contro contro ben e non mi posso però non mi posso curare che merdata se facessi tipo un attacco dall'alto e sarà molto dura ciao ben sono tornato ce la prendiamo prima con merlino ma va a fare nel cu proviamo alla codardia portami via magari non ci vede no ci ha visti dai me la prendo con quello giusto sto giro non ti piace uno contro uno però eh l'urido stronzo non lo sapevo non lo sapevo errore mio secco tutti e tre varda dunque sono tornato indietro a bestia proprio tanto perché ho deciso di potenziarmi ancora un pochettino siamo a petit london e volevo andare a a a a dove sono qua è la città infame dovevo recuperare l'anima della guardiana per potenziarmi ancora la fiaschetta estus e poi volevo andare a prendere un po' di cose e volevo andare magari a recuperare degli oggettini che prima mi sono perso e volevo andare a vedere se riuscivo a trovare qualche scaglia di drago no cosa ci fa quel drago ma è ancora vivo non lo sapevo pensavo di averlo ammazzato alla fortezza di Sam a parte che c'ha metà cadavere e l'ho superato lasciando lì le robe qui c'è un altro problema se muoio torno indietrissimo vorrei anche vedere quanto sono migliorato rispetto a questi draghetti che non ho mai affrontato e che ho dimenticato di cambiare anello orca puttana è proprio lì che le cura le mie anime bastardo però sto giro c'ho l'anello del tuono che mi protegge contro l'elettricità ho cambiato l'arma perché sono morto perché ho perso vita è andato giù dove cazzo è andato? è caduto? è morto per sempre? non mi sono arrivate le anime eccolo lì che c'è morto non ho visto dove è caduto allora vorrei vorrei ma non posto che battuta di merda eeeh piano piano no 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 porca puttana quello che voglio fare è andare su quella torre là perché so che lì c'è un anello non mi ricordo quale ma c'è sai che faccio fatte scera maut dunque ho sbagliato strada c'è l'anima della guardiana che non è che ho ignorato di più fuor no no mi è rotto il cazzo uuuu non l'ho visto ed ecco l'anima della guardiana io direi che Anor Londo può aspettare ancora un attimo non è comparsa la scritta eeeh Bulbasaur 18 wow 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 dunque comprando il cimiero dal fabbro è possibile sbloccare questa porta il problema è che servono 20.000 anime e adesso non c'ho cazzo voglia proprio quindi inizierò ad abbattere alberi e muri finché cioè io sono andato a casaccio eh c'è un falò se però devo passare il tempo a picchiettare l'arma contro i muri mi sa che non me la cavo più ora qui io mi ricordo che ero andato tutto a sinistra ma se dovesse andare tutto a destra che non c'ho un cazzo eh a vita propria è vero le radici ma quante cose si scoprono in sto mondo oh mamma dov'è che sono aaaah cazzo mostri nuovi ma è un pokemon questo a parte che non me lo mira neanche non sentite un odore tipo 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 di trappola ooo bestia ma è molto più semplice batterli decisamente meglio un oggetto ah che tra l'altro è l'oggetto che dicevo ma come si fa ad andare a prendere eccolo qua anello del lupo anello del lupo no esamine aumenta l'equilibrio e detto sinceramente a me non me ne può fregare ah a Grazie a tutti.